Antonio Pupino vende il brindisi ma non va via. Secondo indiscrezioni il presidente Biancoazzurro potrebbe restare nella nuova società, ricoprendo un ruolo probabilmente diverso da quello rivestito fino a questo momento. Non è ancora ben chiaro quale sarà il compito che i nuovi proprietari del sodalizio adriatico assegneranno all'ex presidente. Del resto Pupino non aveva nascosto mai il suo desiderio di poter restare. Pupino resta in questa dirigenza? Vedremo. Le farebbe piacere? Sì sicuramente sì. È prematuro pensare invece all'assetto della futura squadra e di altri quadri dirigenziali non conoscendo ancora fisicamente il nuovo gruppo. Come è noto le uniche notizie certe è che si tratta di un'azienda petrolifera australiana interessata al nostro porto. Il nome è ancora Top Secret, probabilmente però è un gruppo vicino a Leni. Tanti i nomi circolati nelle ultime ore, tra questi proprio quello di Eni Australia e della AOP. È iniziato il conto alla rovescia. La settimana appena cominciata dovrebbe essere quella tanto attesa alle supporter adriatici, quella in cui la nuova proprietà dovrebbe presentarsi alla città sportiva, illustrando i suoi programmi. Il presidente Pupino aveva detto martedì scorso che sarebbero serviti una decina di giorni prima di una possibile conferenza stampa, quindi sarà necessario appazientare almeno fino alla fine di questa settimana. Solo dopo il passaggio di proprietà dovrebbero essere contattati tutti i giocatori ancora legati al brindisi da pluriennali. Oltre a questi anche coloro che a giorni si svincoleranno. Pizzolla, Battisti, Moscelli, Taurino, Lenti, Papa, Camposeo, Motola, Vicentini, Gelfusa non è una possibile formazione ma l'elenco dei giocatori legati alla società adriatica da contratto biennale. Con loro la società dovrà sedersi a tavolino e ridiscutere quegli accordi. L'attaccante Maiorino, giocatore in comproprietà con il Vicenza, potrebbe essere invece riscattato dal brindisi. La nuova società avrebbe a disposizione per trattare con i giocatori circa un milione di euro. La cifra dovrebbe essere sufficiente a chiudere il capitolo debiti con i calciatori, visto che se pure a parole tutti hanno dato qualche settimana fa la disponibilità a trattare, a rivedere la loro posizione debitoria. Si parlò di circa 890 mila euro per prestingere il debito. Tra gli uomini scelti da quella che sarà la nuova società del brindisi ci potrebbe essere anche qualche uomo vicino in passato ai colori bianco-azzurri, grande conoscitore di calcio. Intanto la firma sull'atto di gestione del brindisi potrebbe essere posta domani. Facile immaginare che i tifosi sono in fibrillazione, l'entusiasmo è tanto ma anche la paura che qualcosa possa andare storto nella fase finale della trattativa. I beni informati parlano di trattativa ormai chiusa e al sicuro ma solo un comunicato ufficiale potrà far dormire suoni tranquilli e tifosi bianco-azzurri per certi versi abituati ad attendere ma ora anche un po' stanchi.